Torinelli il 18 gennaio scorso è in campagna elettorale in Emilia sotto la pioggia con il candidato che sta lì e guardate che succede. Sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente, Movimento 5 Stelle, Regione Emilia Romagna, Daniele Tanichelli. Allora, la cosa si ferma perché il candidato 5 Stelle in Emilia non si chiama in quel modo. Adesso noi facciamo un piccolo test in studio, ho quattro ospiti di livello altissimo perché ho Geremicca, grande giornalista, la Serracchiani, esponente di spicco del PD, Molteni, esponente di spicco della Lega, braccio destro di Salvini, Daniela Santanchè, esponente di spicco non solo dei fratelli d'Italia, chi di voi sa come si chiama il candidato del 5 Stelle in Emilia Romagna? Io so che è un consigliere comunale di Forlì. Io credo che si chiami Bernardini o Bernardini, una cosa del genere. Bernardini? Bernardini anche tu. Daniela Santanchè? Lo ignora. Io onestamente non lo so perché per me non è pervenuto. Ok, stamattina vi devo dire la vera verità, non lo sapevo nemmeno io, però ho la busta che i miei autori che sono efficientissimi hanno fatto e lui, cara Serracchiani, si chiama Benini e non Bernardini. Il consiglio è che non è un po' di lì però. Questo la dice lunga. Ah sì, la dice lunga, effettivamente sì. Allora comunque, Caos 5 Stelle. Questa è la domanda.